Via libera al bilancio di regione toscana con molti atti collegati approvati dall'Aula, di cui la Giunta ha fatto sapere il Presidente Gianni, si prenderà certamente carico. Politicamente resta incolmabile la differenza tra le opposizioni e la maggioranza, che però ritrova la sua compattezza. Un bilancio che nasce in un contesto ancora di incertezza, perché da una parte sappiamo che la Toscana esce come tutto il Paese dal periodo dell'emergenza sanitaria, c'è stato un rallentamento dell'economia e quindi si sono verificate minore entrate, ma c'è anche un'incertezza che viene da un quadro normativo non ancora definito a livello nazionale, perché non è stata approvata ancora la manovra finanziaria, ma ciò nonostante la Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti e del diritto alla mobilità fino ad arrivare all'ambiente. È un bilancio dove ci sono delle forti riduzioni, riduzioni per 193 milioni circa di euro, quindi diciamo che questa palla è passata molto indietro e poco in avanti. È un bilancio che non lascia una visione complessiva a quello che deve essere una programmazione seria della Toscana dal punto di vista in particolare della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti. Non si capisce dove si vuole arrivare. È un bilancio che purtroppo nasce già penalizzato, oggi lo conferma anche l'Istat. Abbiamo una contrazione del PIL regionale, la più alta tra tutte le regioni d'Italia, meno 9,8%. Quindi noi ci aspettiamo, e chiaramente non può fare altrimenti la maggioranza, nei primi mesi del prossimo anno andare a intervenire con delle variazioni di bilancio importanti che pongano la Toscana negli ambiti importanti dei piani di investimento che oggi in molti reparti, negli assessorati, sono rimasti bloccati e che devono trovare chiaramente uno sbocco. Ma quello che più ci preoccupa è una mancanza di prospettiva e di visione e da questo bilancio lo capiamo benissimo. Un bilancio 2022 della regione toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico e Italia Viva insieme al proprio governatore Gianni dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale. Abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata. È la nostra battaglia, direzionale IRPEF e Bollo Auto non sono state aumentate. Per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi. Si trovano le risorse per la cultura, per lo sport e per le infrastrutture. Pensiamo a 150 milioni di euro di nuovi investimenti. Si guarda verso il futuro se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria per arrivare a fare interventi a favore dei comuni, sui teatri, sulle scuole. Pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi. Un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Oggi abbiamo fermamente votato contrario e anche sottolineato le cose che non andavano in questo bilancio. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro. Un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle saghere, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. È una monovra che contiene molti investimenti, che parla alle esigenze della Toscana, dei suoi territori e anche delle sue comunità, che come Partito Democratico e come maggioranza, in collaborazione con il Presidente e la Giunta, abbiamo inteso anche arricchire, integrare e migliorare. Vorrei da questo punto di vista ricordare il Fondo per le Progettazioni, a disposizione dei Comuni e dei Consorzi, proprio per catturare attraverso i progetti i fondi del PNRR. Vorrei ricordare l'attenzione nei confronti della montagna e dei comuni disagiati con l'incremento dei fondi. Vorrei anche ricordare quella che è una misura importante per l'economia, perché noi abbiamo previsto che nei prossimi tre anni le aziende che si insediano nei territori oggi classificati come di area di crisi complessa e semplice non pagheranno l'IRAP. Sì, diciamo che il bilancio è stato presentato tardi eppure male. Basti pensare che il parere dei sindaci revisori che è obbligatorio per legge è arrivato praticamente a discussione di fatto iniziata, impedendo quindi alla minoranza, ma direi a tutti i consiglieri, di entrare nel merito di alcune scelte. Si è reso quindi necessario nel corso del primo giorno, come sappiamo, una discussione accesa all'interno della maggioranza con il cosiddetto maxi emendamento, quindi sono state risposte ulteriori spese per placare gli appetiti dei singoli territori. Manca, secondo noi, una visione d'insieme, manca dopo 15 mesi il piano regionale di sviluppo, manca il piano dei rifiuti, cioè le coordinate che possono servire a orientare le imprese e a sostenerne lo sviluppo. In più, per i cittadini, tagli lineari solo parzialmente corretti, per esempio all'assistenza alle persone e alle famiglie con disabili a carico, tagli lineari sul sociale, tagli lineari sullo sviluppo economico e sul turismo. Quindi andava adottata molta cautela, in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto, finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati. Ecco, per noi questo modo di procedere con marchette territoriali non è assolutamente condivisibile e in tutto questo, in queste sforbiciate, in questo grande pasticcio, purtroppo rischiavano di rimetterci i più deboli, si è cercato di correre a ripari in corsa mettendo appunto delle risorse, ma diciamo che non c'è anche in questo caso la vera consapevolezza, a nostro avviso, che sul fronte delle politiche sociali molto di più debba essere fatto, di fronte a un taglio molto pesante di 47 milioni. Speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio questa giunta si faccia carico finalmente di portarci un disegno organico. Ed è stata coniata dal Presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio è in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti, si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare, per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo. Pensiamo alla sanità, ma anche alle scuole, al discesso idrogeologico. Pensiamo, ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500 mila euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal Governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore di turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta, perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al Governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono, quindi la responsabilità, non me ne voglia il Governatore, ma è doppia da questo punto di vista. In auditorium Giovanni Spadolini a Palazzo del Pegaso di fronte ad autorità civili, militari e religiose insieme ai dipendenti e rappresentanti della società si è svolto il tradizionale scambio di auguri di buone feste con i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale Antonio Mazzeo ed Eugenio Gianni. I rappresentanti dell'istituzione non hanno potuto fare a meno di soffermarsi anche sull'emergenza sanitaria. Che sia un inizio d'anno diverso da quello che si è appena concluso, un anno di speranza, un anno vero di ripartenza. Abbiamo vissuto mesi difficili, ma consentitemi di dire che sono orgoglioso dei nostri medici, del personale sanitario, per tutto il lavoro che hanno svolto in questi mesi, ma anche dei cittadini toscani che hanno creduto nella scienza e nei vaccini. È chiaro, ora è il tempo di ripartire provando a mantenere un po' di quelle regole che in questo periodo ci hanno accompagnato e non è semplice, lo capiamo, però viviamo questi giorni rispettando queste regole vicino alle nostre famiglie, a chi vogliamo bene e guardiamo speranza e ottimismo al futuro. Voglio ringraziare il Presidente Gianni e la Giunta per il lavoro importante che hanno svolto. Siamo riusciti a gestire meglio di tante altre regioni in questo tempo difficile. L'abbiamo fatto avendo il tasso di vaccinazione più alto d'Italia, l'abbiamo fatto investendo nella sanità pubblica e è evidente che ci ritroviamo di fronte a una pandemia che non tende a finire, ma avendo lavorato e avendo costruito le condizioni per gestire al meglio l'emergenza sanitaria, guardiamo con speranza e ottimismo al futuro. Presidente Gianni, intanto l'augurio per il prossimo anno, per il 2022, guardando le nostre telecamere, direttamente ai telespettatori dell'informazione regionale della Toscana. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza che è l'emergenza sanitaria che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021, in realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia, perché la nostra copertura vaccinale è ormai dell'84%, più di 1 milione e 100 mila abitanti. Certo, non ci dobbiamo fermare qui, perché significa che rispetto ai nostri 3 milioni e 668 mila abitanti ne mancano circa 560 mila, più di mezzo milione di persone che non sono vaccinate e che poi sono quelle che maggiormente favoriscono ancora il corso del vaccino. Per chi non lo può fare, i bambini, è evidente che ne prendiamo naturalmente atto come elemento statistico. Per chi lo potrebbe fare, invece, li invito a vaccinarsi perché fanno servizi a se stessi ma lo fanno anche alla comunità. Io ritengo che la Toscana si stia davvero comportando bene sotto questo aspetto e non a caso oggi ancora abbiamo, nonostante molti contagi, ma margini per non porre limitazioni alla mobilità delle persone. stamattina siamo al 7,11% con 420 persone in ospedale per arrivare alla zona gialla il limite è 750, il 15% e conseguentemente ancora pensiamo di poter dire che per giorni abbiamo i margini per evitare quello che accade in realtà in otto regioni italiane dove sono già con limitazioni da zona gialla. Ma all'interno di quello il mio è un aspicio che il governo si renda conto di questo sforzo e preveda le risorse perché i nostri hub, i nostri operatori siano il più possibile presenti operativi senza costringerci a dover pensare a dove troviamo i soldi per poter tenere in piedi quello che è il sistema sanitario regionale che è quello che al di là di tutto quello che possiamo pensare o parlare o esprimere ma nei fatti è il sistema attraverso cui si sono fatte le vaccinazioni e si è dato risposta a quello che è una struttura quella sanitaria della Toscana che è veramente posta come un esempio. Grazie a tutti.